o camminare suggeriamo selvaggio blu è partito il ma questo fa la pausa o non la fa la pausa no non la fa la pausa il sit no 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 il sit mi sa di no ah qui nel frattempo noi dobbiamo chiamare due che vanno in all in con pochissimi blind dobbiamo chiamarli se prendiamo un bel asso otto tre perso contro tutti e due peccato che sei anche uscita è venuto con me sono uscita vabbè alla fine tra l'altro non nemmeno visto quanti pacchetti erano se voi erano aumentati vabbè ci riproverò jack jack se vinciamo questo siamo messi benino sì abbiamo vinto stiamo andando bene su questo torneo abbiamo preso una bella taglia e siamo primi di 89 alle galactic 17 allora che sto facendo mi sorpreso ah sì stavo dicendo praticamente il mio ragazzo non è mai venuto a giocare un torneo con me live l'unico live che ho fatto da quando stavo con stiamo insieme è quello a cam... uno a cam... uno a cam... un... tipo spoker tour a campione si eh prima che... si no però non è salito perchè io sono andata praticamente a trovare mia mamma che in quel periodo lavorava a Milano ho provato a qualificarmi sono riuscita e sono andata a campione ho giocato e sono discesa non ero mai stata a campione proprio bellino il posto lì tu sei stato si è detto a campione si una volta credo abbiamo aperto kk qui in alto a sinistra vediamo facolti da frasciccione e su questo bordo andiamo in continuation lui razza e qui chiamiamo perchè non so avrà un 10 avrà un flash draw non so oh my god quell'altro chiama no vabbè no vabbè Miliedro ah speriamo che non sia quello che penso eh speriamo che non sia quello che penso lo sapevo io ragazzi questo si vince 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 stasera questa run me lo fa vincere madonna che run madonna che run che bellezza che meraviglia bello quando run sensazione di infinito si situazione di onnipotenza proprio speech flat and small blind range forte qual'è il casino che ti è piaciuto di più a venezia è bellissimo veramente bello io venezia non sono cioè sono stato a venezia ma non sono mai stato al casino a venezia sono andato due o tre volte con la xenia con mia moglie perché anche lei giocava prima della bimba e veramente oddio il casino è bellissimo venezia non è che mi entusiasmi eh è bella per l'amor di dio foto fantastiche però boh c'è sempre quell'acqua il puzzo boh eh però è bella sì sicuramente è romantica bella però oddio secondo me cioè lai viverci deve essere proprio tosta cioè non penso sia proprio sì ma è sicuramente il 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 l'acqua resti lì molto fluido la situazione però però la seconda volta che ci ho andato ho detto ah però è bella proprio forse anche il periodo perché spera qui come faccio che dici lo faranno prima o poi sta liquidità condivisa oppure Alessa io veramente lo spero molto penso che non possiamo rimanere gli unici noi indietro fino alla notte dei tempi però non so esattamente quando cioè nel senso vuol dire a logica siamo in Europa Francia, Spagna e Portogallo stanno già facendo lei va tutto bene non ci sono problemi ognuno paga le sue tasse quindi cioè alla fine non ci possono tenere fuori per sempre io non ho ancora capito se era un problema politico o se era un problema di altro tipo io credo fosse un problema politico nel senso che erano in trattativa se mi dico cioè se ho letto perché ho letto questo poche poi è cambiato il governo non se n'è fatto più nulla però non ne sono sicura può essere pure che il problema era che non si erano messi d'accordo sulle sulla tassazione forse volevano boh non lo so questo chi betta river grosso ora richiamiamo questi hanno abbassato ah hanno abbassato ancora i garanti ah io mi sei max ok allora mi ricordavo bene vabbè ho fatto questo da 27 che almeno durò un po' di più ha bettato lui ha bettato flop ceccato turn ha bettato flop ha ceccato turn perché dovrebbe aver ceccato turn però magari sta value bettando un 10 o sta value bettando che cosa ha value bettato anche un 9 7 un 6 il 6 non lo value bett il 7 ne ha un 9 non 10 no fall basta ci credo che sta peffando c'è un'azione su instagram una stazione associazione e praticamente fanno dei viaggi cioè ci sono c'è una pagina instagram per ogni regione e poi c'è quella nazionale e mi hanno invitata con instagram a fare questo viaggio sulle dolomiti e quindi ho preso un po' di giorni in là poi sono andata a fare un altro viaggio mi hanno invitata mi hanno invitata sempre a una cosa con il blog per per conoscere la fragola del metapondino quasi una fragola sandonga è una fragola tipica buonissima si quindi ho preso altri giorni quindi praticamente sono arrivata agosto e mi erano rimasti due giorni di ferie ma quindi e com'è questa fragola è buona è buona se la trovi vabbè ormai non è più periodo però è cioè è proprio saporita si chiama kandonga tipica della 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 mia regione della piana del metapondino la cercherò si verso marzo mi sa che inizia 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 a raccogliere la seconda che a vedere i campi vabbè questo ovviamente non sta ok vai 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 non commento le mie mani ma tanto fold vai 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 dici 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 no gioco senza commentare continui a raccontare mi scorgola ogni tanto che vuoi guardare il gioco che stiamo facendo di fragole vai vai torno sulle fragole no no è buona ok eh niente abbiamo visto i campi di fragole poi siamo stati ai paesi come non mi piace come giochi ma mi fate pisciare tardi come no ballai che abbiamo detto 3600 euro vedi che ha fatto la trasferta praticamente lui con con un altro ragazzo samuele matarazzi che tra l'altro è arrivato itm loro sono di gualdo tadino e ha fatto il side e l'ha vinto si che wow complimenti a due ragazzi molto giovani tipo hanno avuto 22 anni beati ora beata gioventù sono vecchia sono vecchia ah in frattempo ci rimettiamo rotten con asso asso vediamo se vuole andare rotten non vuole andare rotten rotten si di samuele lo so ci ho parlato balli per anni che cos'è che fai te ho fatto balli balli di gruppo e balli tipo pizzica per anni proprio poi sono stata ferma un paio d'anni proprio non ho fatto niente poi però ero un po' ingrassata lo scorso ho detto ok devo fare qualcosa è ricominciato e si mi sono iscritta arrambicata perché la palestra qui vicino diciamo era l'unica cosa che mi ispirava è una cittadina probabilmente sperza nel eh questa sembra carina sta città praticamente ieri mi volevo qualificare ho visto che c'era su bet uno per rozvado oppure in repubblica cieca ok qui andiamo all in contro un ca15 blind 57 euro d'italia probabilmente eh siamo messi anche bene dai fluidità un bel 5 perfetto perfetto doppia taglia pom 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 si scippa ragazzi stasera si scippa io a questo punto vado vai ti saluto di nuovo grazie ancora grazie e alla prossima e fluidità ciao 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 vai qui more clicchi on games e poi fai join a poker club e metti l'id e la password che sono sul sito su instagram scusa questo lo devo chiamare 110 euro di dai un gecchettino 78910 jack scala minchi che bomba 110 euro di taglia vieni qui dal papi vieni dal papi 10 tribet 6 395 bari questo ah questo è il collega di reggio reggio mi sa ok i gem si si i gem ditto è più il suo range non 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 si non 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 5 6 6 8 10 14 15 Dimmi che hai settato Non paga più Non paga più Magari ha il colore E paga Non paga più L'apertura molto tight Sicuramente difenderemo Non paga più Non paga più Non paga più Non paga Non paga Non paga più 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 Sfortunato Non paga più Però io ho mostrato il massimo Tense Dove ti ho messo Tense Tense 13 14 14 14 14 è il massimo della vita e il cuore ce l'abbiamo noi! Basta così! STOM! Reazioni composte STOM! Mi ci andava, è uno sfogo di liberazione C'è un sacco di calo C'è un sacco di calo C'è un sacco di calo Un bel quattro, oh il geccone, oh il geccone! Che bomba! 856 euro in taglia! Questo ha leutras sconosciuto per me, 10 mani, questo è un reg, spiccio reg, rikatsu, 791 mani, stanza chiusa, cage lo conosco, naina 20 mani non lo conosco, Brinco lo conosco, thank you Matosu! Questo lo apriamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! C'è no, pusha, pusha, per l'amor di dio, pusha, anzi devi pusha a 9k! Ok... Foldate... Guarda questo, guarda che è ritardato! P dal K! No... Dagli! No... 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 Come cazzo fanno a vivere? Allora poi come cazzo fanno a vivere? Già show Madonna 10 contro il chip leader? Vai andiamo! C'è una roba proprio che non si può guardare... Andiamo! Nooo... Non si può guardare... Non si può guardare questo qui... Cazzo che ho... ius! Vamos... Facciamo il piccolo... V зак approximately... il nome di merda stasera me lo volevo proprio buttare nel Bao Gigi vabbè ragazzi a me non ho fatto stronzate, ho giocato bene correttamente mi sembra che pochissime sbavature quindi soddisfatto così peccato perché quelli sono colpi che Kieran li vince ok comunque stream fantastica siamo 117 utenti connessi alle 2,5 abbiamo vinto 856 euro di taglie più 948 di premio che fa 1804 più i 109 di prima sarà in profitto di 1913 meno 335 di spesa sono circa 1600 euro di profitto per stasera che va bene che va bene e ci accontentiamo grazie grazie lupus allora vedo che kate è online vi rai da tutti su kate e li fai da piacere da sentire un po' bestemmiare quando perde ragazzi è stato un piacere ragazzi è stato un piacere buonanotte e vi rai da su kate ciao 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 alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti